Questo è il direttore dell'orfanotrofio. Sta per ricevere una sorpresa. Di nuovo! Huggy Wuggy, smettila di spaventarmi! Te l'ho detto cento volte! Non venire nel mio ufficio! Adesso ci penso io! Guarda, ti ho trovato una nuova mamma! Ecco, prendilo e vai! Sono così felice! Io sono felice! Ciao, ciao! Finalmente il direttore si è sbarazzato di Huggy Wuggy e il mostro ha una famiglia! Ora può rilassarsi! Di nuovo tu! Per fortuna non devo più vederti di persona! Il mio bambino! Oh, cos'è? Puoi guardare un video? Ok! Huggy Wuggy ha qualcosa da mostrare alla sua nuova mamma! Sarà divertente! Pronto? Andiamo! Grande! Che bel film! Non è affatto spaventoso! Dammi popcorn! Che carino! Nascondino e abbracci con il mostro! E adesso si viaggia! Huggy Wuggy ama giocare con le mani! Capito! Vuoi giocare? Andiamo allora! Wow! È una vera caccia alle mani! E qui? E adesso qui? Guarda attentamente! Aprile un armadietto con codice è difficile! Ecco Huggy! Calma! Il mostro è venuto ad aiutarti! I colori dei vagoni sono la password! Ha funzionato! Huggy Wuggy ha un amico a quattro zampe! Stai attento! Probabilmente hai fame! Conta fino a dieci e cerchiamo il pranzo! Queste ciambelle sono per te! Ti porto una bibita! Wow! Che appetito mostruoso! Wow! Hai già mangiato tutto? Tieni, bevi! Prendi gli hamburger! Sei il mio golosone preferito! Sbranare gli hamburger è facile per Huggy Wuggy! Ehi, perché stai mangiando il piatto? Oh, beh! E adesso? Un omino di pan di zenzero! Oh, che paura! La mamma sta facendo addormentare il suo figlio Huggy Wuggy! Dormi, tesorino! Ti auguro di fare tanti incubi! Buonanotte! Oh, chi è quello? C'è un mostro spaventato sotto il letto! Wow! Poppy! Se avessi adottato la bambola... Avrebbero preso il tè e si sarebbero spazzolate i capelli a vicenda! Come una vera mamma e sua figlia! La mia bellezza! Anche Huggy avrebbe preso parte a quel momento tra donne! Oh, mi hai spaventato! Guarda che carina! Oh, no! È il peggior incubo di Huggy Wuggy! Calma! Cosa c'è che non va? Non è una stanza! È il museo di Huggy Wuggy! Ed ecco il protagonista! Ama fare facce strane! Meglio scappare! Oh, che incubo! Non essere triste! Ho un'idea interessante! Andiamo a scuola! Ti divertirai! Vieni con me! Non aver paura! Devi incontrare i tuoi compagni di classe! Ciao, sono Huggy Wuggy! Ciao! Oh, cosa accadrà adesso? I ragazzi non sono felici di incontrare il mostro! E nemmeno i ritratti! Dove siete? Un tirannosauro è finito accidentalmente a scuola! Ops! Che incontro insolito! Persino guardare un'esplosione nucleare è meglio che vedere di nuovo quel gigante di peluche blu! Huggy è dai suoi nonni! Avranno paura del petardo con un vero mostro seduto vicino a loro! È carino, vero? Wow, dei pericolosi raffinatori sono entrati in casa! Oh, sono stati accolti con un sorriso! Ciao! Sono Huggy Wuggy! Dove andate? Il mostro adora la sua PlayStation! Conosce tutti i trucchi! Che bel gioco! Ehi, Huggy! Cos'è questo? Cos'è questo casino? No, così non va! Sembra che il mostro non ascolti la mamma! Beh, ti darò una lezione! Esatto, l'idea! Mentre Huggy Wuggy gioca con la palla, il suo joystick scompare! No, no! Dove è andato? È impossibile trovarlo in una stanza disordinata! Dovrà pulire! E rimontare la bambola! Ottimo lavoro! Butta tutto dentro il cestino! Così! E questa bambola è per te! Il mio piccolo casalingo! Hai fatto un ottimo lavoro! Sembra che qualcuno abbia trovato un compagno di ballo! Huggy Wuggy è andato in un ristorante! Ci deve essere qualcosa per i mostri nel menù! Wow! Guardala! Non le dispiace farsi un nuovo amico! Fantastico! Questo bel mostro sa come attirare l'attenzione su di sé! Cosa sta combinando? Sembra che voglia sorprendere la ragazza! Che fallimento! Guardava questa ragazza! La ragazza particolare ha conquistato il cuore del mostro! L'amore è cieco! Huggy Wuggy ha fame! Sia la sua cucina che il suo stomaco sono vuoti! E questo cos'è? Una telefonata risolverà tutti i suoi problemi! Fantastico! Ora il mostro riceverà una pizza gratis! Il ragazzo delle consegne è arrivato più velocemente di Flash! È stato davvero fortunato! Che buona! Ehi, aspetta! Hai dimenticato la borsa! Wow! È il paradiso della pizza! Ecco cos'è la vera fortuna! La festa in maschera sta andando alla grande! Gli ospiti indossano dei costumi incredibili e si divertono! Ci sono tutti! Giusto! Manca solo Huggy Wuggy! Grande! Si sta scatenando! Che bella festa in maschera! La banana è fuori controllo! E non è l'unica! E oggi il premio per il miglior costume va a... Huggy Wuggy! Facciamogli complimenti! Wow! Il mostro ha ottenuto il primo trofeo nella sua vita! Bene! È ora di togliersi le maschere! Ora è chiaro chi è chi! Oh! Il momento della verità! I ragazzi hanno capito che stavano festeggiando con un vero mostro! E gli ospiti tifoni se ne tornano a casa! Huggy Wuggy ha dormito abbastanza! E ora è pronto per nuove avventure! E ne avrà tante! Wow! C'è Poppy! Un cucchiaio per la mamma! La mia bambina! Un altro cucchiaio! Apri la bocca! Brava! Oh no! Avere Poppy come sorella è un incubo! Wow! Che colpo di scena! Per tutto questo tempo Huggy Wuggy è stato solo un elemento dell'immaginazione di questo bambino! Si è divertito!